Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del fatto del giorno. A Roma gli ospedali e i pronto soccorso sono in affanno. A denunciarlo è un'inchiesta sulle prime pagine della Repubblica di oggi. Molti pazienti attendono su una barella per più giorni e mesi, addirittura, nell'ospedale del Policlinico di Tor Vergata. Andiamo a vedere quelli che sono i numeri di questa emergenza sanitaria pubblicati dalla Società Italiana della Medicina d'Urgenza e d'Emergenza, la Simeu. Come sottolineano i numeri, lo scorso anno sono stati 600 gli operatori sanitari che hanno deciso di lasciare il lavoro nei pronto soccorsi. Complessivamente in questo momento il numero di medici mancanti all'interno dei pronto soccorsi è salito a 5.000. Un'altra voce importante del report è il problema stipendi. Lo stipendio medio di un operatore sanitario all'interno di un pronto soccorso si aggira intorno ai 1.200 euro mensili, ma come sappiamo le regioni hanno un tetto massimo per pagare lo stipendio di questo personale e molte volte devono ricorrere a quelli che sono definiti come medici a gettoni pagandogli 100 euro all'ora. Infine l'ultimo problema di quest'anno è quello che proprio quest'anno oltre due terzi delle borse di studio di specializzazione per la medicina di urgenza non sono state assegnate. Su quello che era un numero di 855 contratti previsti solo 265 sono stati assegnati con ben 4 scuole senza nessuna assegnazione tra cui troviamo anche la Sapienza di Roma. A fare le spese sono per lo più anziani e clochar lasciati a se stessi all'interno delle barelle. A Tor Vergata infatti c'è un 77enne ricoverato sulla barella di un pronto soccorso da 43 giorni. Si tratta proprio di un senza tetto che oltre a richiedere quello che è un bisogno fisico di cure e anche assistenza sociale richiede. Il presidente della regione Lazio Francesco Rocca ha parlato proprio di questo in questi giorni definendo quello che è il fenomeno del boarding. Nel Lazio secondo lui si è ridotto del 25% ma il caso di Tor Vergata sembra dimostrare proprio il contrario. Dalla regione si giustificano sostenendo che questo caso non è molto sanitario ma soprattutto un caso sociale. Le persone che affollano proprio queste strutture non hanno bisogno di quello che è un vero e proprio ricovero secondo la regione ma di altro tipo di aiuto soprattutto coinvolgendo quelli che sono i servizi sociali anche loro che però sono al tracollo. Per oggi è tutto e vi aspettiamo ad una prossima edizione del fatto del giorno.